Allora, poi lunedì pomeriggio faremo una bella live di fare calcio, ma volevo intervenire su alcuni temi per battere il ferro finché era caldo senza aspettare troppo tempo. Guardatevi video fatti, ovviamente devastate di mi piace questo e condividetelo con tutti i tifosi che conoscete. Allora, dopo la roboante vittoria di ieri, adesso ci sono comprensibilmente i processi alla Juventus, ad Allegri, però è finita tra il banco degli imputati una mossa che di per sé a mio avviso non sarebbe sbagliata, anzi sarebbe giusta in determinate condizioni. Cioè parlo del discorso di vedere Chiesa come un potenziale esterno a tutta fascia, che poi se uno ci pensa è una mossa che ricorda quello che Conte ha fatto con Perisic all'Inter e Chiesa e Perisic sono due giocatori che si assomigliano, sono due giocatori simili. La mossa di per sé non è assolutamente sbagliata, così come per me la formazione con cui la Juventus è andata in campo nel primo tempo, anche piuttosto osante, sarebbe anche causa di fomento in certe situazioni. Ma il problema non è tanto l'interpretazione che tu dai a Chiesa se è più attaccante, se lo vedi centrocampista, se per te può fare quel ruolo o non lo può fare. Ma il problema è ben altro, tant'è che poi la Juve anche spostando Chiesa di posizione, gol ne ha continuati a prendere, ne ha presi anche di più, anzi. Il problema è che se tu decidi di fare un'operazione come quella di trasformare Chiesa in una specie di Perisic o addirittura in un Teo Hernandez, che è una cosa, vi ripeto, che io condivido, è un percorso che non nasce dal nulla. È un percorso che devi fare seguendo delle determinate situazioni, del tipo che non lo puoi fare con un Chiesa magari che è appena ritornato o da poco ritornato da un infortunio in una partita come il Napoli, ma è soprattutto un percorso che tu devi accompagnare spiegando i movimenti al giocatore, facendogli fare magari anche un lavoro di tipo fisico, perché cambiano i presupposti in quel ruolo. Non è un qualcosa che ci si inventa da gara a gara, ma soprattutto traspare quella che è un po' la mancanza totale della Juventus da che è tornato Allegri, cioè il fatto che si vede poca mano dell'allenatore per quel che riguarda i movimenti codificati, il sapere cosa fare con la palla tra i piedi. Ieri si è anche visto che finora è stato un mantra che di fronte ad una squadra che gioca di prima, che gioca di prima perché in allenamento evidentemente ha una struttura di gioco provata, riprovata, applicata in campo, la Juve tutto questo non ce l'ha e se sapevamo finora che ce l'aveva in fase offensiva, ieri si è visto questo tracollo anche dal punto di vista difensivo. Ma non è un errore a mio avviso quello di vedere chiesa in quel ruolo, però se tu chiesa in quel ruolo ce lo vedi e io sono tra questi, devi fare banalmente un percorso come quello che Conte ha fatto con Perisic, un percorso che deve essere accompagnato, che deve essere strutturato, nel quale si imparano i movimenti, sia in fase offensiva che difensiva, ma di per sé non è una visione errata. Ieri il problema non è stata la formazione, ieri tu la Juve potevi schierarla con il 5-4-0, con il 3-4-3, con il 4-2-3-1, ma avrebbe probabilmente preso le scopole uguali perché erano due squadre che andavano a velocità opposte, c'era una squadra che ragionava di prima, che pressava, che arrivava prima su tutti i contrasti e c'era l'altra che subiva, che veniva tappata, ogni qualvolta provava a ripartire e quando quelle sporadiche volte tentava di imbastire un'azione offensiva si vedeva che non aveva la velocità di esecuzione, i movimenti e la confidenza che deriva dall'allenamento che invece quell'altra squadra aveva in corpo. Far passare la vittoria del Napoli di ieri solo attraverso delle scelte di formazione significa sottovalutare poi il 95% di tutte le altre motivazioni che come abbiamo detto ieri partono financo dalle scelte societarie per finire poi all'ultimo filo d'erba calpestato dai giocatori ieri in campo perché ci sono situazioni di causa-effetto, anzi vi ripeto banalmente in modo provocatorio vi dico che il discorso di vedere Chiesa come nuovo Perisic è una delle poche intuizioni che condivido dell'Allegri Beats, certo è che è un qualcosa che va strutturato e che non ti può inventare banalmente per esempio in quella posizione non ci vedo sull'E che è molto più, sull'E è un giocatore più esile più di tecnica, più da far lavorare con vista sulla porta, Chiesa invece è un giocatore che fa dello strappo della progressione, delle caratteristiche importanti e sono caratteristiche che in un percorso ben strutturato possono essere usate in tutte le due fasi proprio come un po' come succedeva a Perisic certo è che è un lavoro che va creato, accompagnato e custodito Chiesa non è la prima volta, non è stato Allegri ad inventarsi Chiesa terzino che poi dipende anche lì, dipende dal baricentro della squadra ma banalmente Chiesa esterno tutta fascia lo mise per la prima volta Pirlo contro la Dinamo Kiev nel suo anno in Champions e Chiesa fece una delle sue migliori partite Chiesa subentrò da esterno a tutta fascia contro la Lazio e mise a referto un assist nella partita quindi dipende anche lì molto dal contesto poi volevo dire, venendo alla Fiorentina, adesso vediamo come va questa vicenda di Nico Gonzalez vediamo se il giocatore alla fine rimarrà si scrive che tra lunedì e martedì potrebbero scaldarsi i discorsi c'è chi dice che il giocatore avrebbe già un accordo boh, stiamo a vedere, io su questo non mi esprimo però prima che emergano questioni di sorta su eventuali sostituti così si legge che la Fiorentina teoricamente andrebbe su Breccalo come post Nico Gonzalez giocatore che a me non spiace assolutamente il buon Breccalo anzi però voglio chiarire quelle che sono le scelte che farei io diciamo che Breccalo è una scelta eventualmente della società se effettivamente sarà così di Pradè o di chi fa il mercato che ripeto nel caso non mi dispiacerebbe perché il Breccalo dell'anno scorso è un giocatore che a me piace, è piaciuto molto è piaciuto molto giocatore che vede la porta giocatore di qualità giocatore prezioso e anche non andrebbe secondo me a tappare le ali agli altri che abbiamo in casa penso soprattutto a sottile icone cioè sarebbero bene o male dei ballottaggi aperti quindi non mi dispiacerebbe per niente come eventuale post Nico Gonzalez però vi dico tutto sommato i nomi che farei io i nomi sono due e ve li ho già detti io a fronte di una cessione di Nico Gonzalez andrei o su Jeremy Sarmiento del Brighton se vuoi un destro o tenterei il colpo su lei dalla Juventus se vuoi un sinistro se lì dipende dalle esigenze tattiche che preferite o che preferisce l'allenatore a seconda che decida di giocare a piede invertito o meno sono due colpi anche un po' simili nella logica nel senso che sono due giovani due giocatori che tu prenderesti oggi ad un costo anche molto inferiore di quello che potrebbero valere tra qualche anno se ben lavorati se ben indirizzati sono colpi di prospettiva ok? fare un colpo come quello anche per esempio di Sarmiento sarebbe anche un po' uscire da questa chiamiamola permettetemi di chiamarla comfort zone di prendere giocatori sempre un po' dallo stesso areale di metà classifica squadre giocatori conosciuti Bogà Breccalo e via dicendo al di là del valore che hanno poi sarebbe anche un colpo quello di Sarmiento capace un po' di fare un cambio di prospettiva su lei invece è un giovane che anche lì sarebbe un colpo magari sicuramente più dispendioso ma anche Sarmiento sarebbe più dispendioso dei 3 milioni di cui si parla per Breccalo però sarebbe anche un segnale perché per una volta se tu riuscissi a mettere a referto il segno andresti tu a casa della Juve a prendere un giocatore di prospettiva e non il contrario è un giocatore lavorabile è un giocatore di grande qualità è un giocatore che si è fatto giocare non lui da esterno a tutta fascia ma esterno alto vicino alla porta in una squadra che gioca alto darebbe fosforismi come vi dicevo di fagioli quest'estate banalmente no? quindi ecco se io sarei se io sarei il DS della Fiorentina e mi dicono hai ceduto Nico González chi prendi sul mio tavolo metterei questi due nomi qua Jeremy Sarmiento del Brighton se tu vuoi un destro Sule se tu vuoi un sinistro se vuoi fare le cose ti pigliano i 5 minuti di volontà di potenza te li piazzi tutti e due arriva Breccalo non mi dispiace anzi è un nome che ripeto sono stato un fan di Breccalo l'anno scorso al Torino ve lo consigliai anche al fantacalcio se non erro la cifra di cui si parla eventualmente mi sembra assolutamente alla portata e quindi vediamo cosa succede un caro saluto